Prima di iniziare con il video ci tengo a fare questa importante premessa che è importante per tutte le tipologie di trattamenti per il viso. La pelle del viso o del corpo presenta due tipologie principali, quella senza segni del tempo, quindi la pelle giovane, compatta, comunque sia che non ha i segni del tempo, e quella con i segni del tempo. Quindi diciamo che c'è un range da prima dei 30 anni a dopo i 30 anni. Sia che la pelle non abbia i segni del tempo, sia che ce li abbia, è comunque sia importante prevenire le aggressioni esterne, che sappiamo che la luce ultravioletta, la luce solare, il vento, lo smog, sono tutte cose che fanno male alla pelle. Aggiungiamo magari un'alimentazione poco bilanciata, ore di sonno non adeguate, aggiungiamoci non solo il fumo, mettiamoci quello che vogliamo, la pelle sappiamo che ne risente. Detto questo, le tipologie vi hanno detto che principalmente sono due. E' importante però, sia che ci siano le rughe, segni di espressione, quello che volete, sia che avete 50, 60 o 30 anni, è importante prevenire. Prevenire perché comunque evitiamo che si formino delle rughe ulteriori, se per caso lo abbiamo già, oppure che si formino delle prime rughe nel caso che non ne abbiamo. E' ok. Quindi dobbiamo scegliere se prevenire o trattare. In ogni caso comunque sia, è sempre importante, una prevenzione e una cura mirata. Detto questo, ricordiamoci che viene tanto detto che le creme dopo un po' smettono di essere efficaci perché la pelle si abitua a quei principi attivi. Non è proprio così. I principi attivi continuano a funzionare, solo che una volta che abbiamo visto i miglioramenti iniziali, ci siamo totalmente abituate a quel trattamento e a quell'azione che svolge che ci sembra che non faccia di più. Effettivamente un certo trattamento non può fare di più di quello per cui è studiato. Quindi per quello che si dice di cambiare la crema ogni tanto, non perché comunque sia e non funziona più, ma perché non vediamo più i segni di miglioramento. Quindi è importante, anche se abbiamo una crema a viso che comunque ci piace o che adatta a noi, ogni tanto cambiarla. Potremmo quindi, ad esempio, per una pelle senza sende al viso fare un ciclo di crema che sia un trattamento per prevenire il sende all'invecchiamento e un altro ciclo dopo e magari con il trattamento più adatto al nostro tipo di pelle. Quindi se è mista, se è sensibile, qualcosa di adatto. E poi di nuovo cambiare, in modo che noi, più che altro nel nostro occhio, non si abitui a vedere quel miglioramento e basta. È molto un fatto più che altro di vista, perché comunque funziona. Stessa cosa per la pelle comunque con i segni del tempo. Qualunque sia la vostra età, potete scegliere la crema più adatta alle vostre esigenze. Quindi rughe, segni, piccoli segni di espressione, segni più marcati, perità di tonicità, rughe più marcate, quella più adatta alla vostra età e al vostro tipo di pelle. E poi fare dei cicli anche con una crema comunque ad azione globale. Globale perché comunque sia, previene i nuovi segni e combatte quelli esistenti. Quindi, un ciclo con la vostra pelle, una crema abituale e un ciclo con un'azione globale. Pelle senza segni, un ciclo con un'azione, non mi viene mai la parola, con preventiva, con un'azione preventiva e un ciclo con la vostra pelle che è abituale. Detto questo, iniziamo a sfogliare il nuovo album e capirete il perché. Ed eccoci qui con il nuovo album numero 2, quello che è valido fino a martedì 25 febbraio 2014. Qui ci sono tantissime novità e dalla copertina lo vedrete, c'è la novità dell'Elixir 79 perché si amplia la gamma dei prodotti della linea Elixir 79 che è un'ottima linea per la cura del viso. E' per questo che vi rimando all'introduzione che ho fatto perché vale non solo per prodotti da Yves Rocher ma con tutti i prodotti, crema e viso in generale, tutti i prodotti per la cura del viso. Questa è una piccola introduzione che ho fatto che comunque sia riguardo il trattamento della pelle dalla parte dei cosmetologi, quindi tutt'altra cosa riguardo al libro Yves Rocher. E ora direi di non perdere altro tempo e di sfogliare l'album numero 2. Eccoci qui e siamo pronti per sfogliare l'album. Allora, già da prima pagina notiamo una novità molto interessante. Sono questi due piccoli patch, sono dei patch per misurare l'intensità delle rughe se sono presenti. Quindi nell'album trovate piccoli patch per vedere il risultato del test e in base al risultato sappiamo quale linea è meglio per il vostro viso. Vi invito a girare pagina perché la linea Elixir 79 si rinnova e si rinnova come? Perché ha tantissimi nuovi prodotti. Vediamo subito quindi la crema energia giovinezza giorno per pelli da normali a miste. E poi la crema energia giovinezza giorno per le pelli secche, quindi è molto più nutriente. Prezzo molto invitante. Vediamo che il trattamento energia giovinezza per le pelli sensibili, che è un siero lenitivo e rivitalizzante. La crema energia giovinezza notte per completare tutto il trattamento. Il roll on occhi è energia giovinezza per completare anche il segno di fatica degli occhi. E da non perdere il siero intensificato di giovinezza da usare prima del trattamento abituale. Molto molto valido. Acquistando uno dei prodotti che abbiamo visto, abbiamo il roll on occhi a solo 10 euro, quindi molto molto in offerta rispetto al prezzo singolo. Un'offerta di quelle da prendere al volo e da pensarci sicuramente. Andiamo avanti. Adesso vi mostro invece, dopo aver visto comunque un attimo lo schema totale delle creme. Qui chiamiamo le creme adatte a ogni tipo di pelle. Sappiamo però che esistono le creme, quelle che ho fatto appena vedere, della linea Elixir 7-9, che sono quelle specifiche per la prevenzione. E poi abbiamo la linea comunque per il trattamento globale azione anti-età. Quindi la linea anti-ex global, che ha un'azione globale anti-età. Quindi permette di combattere tutti i segni del tempo, quelli più evidenti, rughe, rughine, rughette, linea espressione. E comunque sia evitare la comparsa di nuove segni, molto importante. Quindi sapete che abbiamo tutta la linea anti-ex global, abbiamo la crema fondamentale giorno, quelle pepele secche, quella pepele normale, la crema fondamentale notte e la crema fondamentale, quella per gli occhi. Molto importante avere un'idea precisa di tutti quanti i trattamenti disponibili. Ora andiamo ad un'altra novità, una grande promozione, perché abbiamo il gel doccia, questa volta, a solamente 1,95€. Quindi tutti i gel doccia che preferite a solo 1,95€, mentre quelli bio sono al prezzo di 2,95€. Quindi davvero una grande, grande offerta, molto interessante da prendere al volo. Altra novità molto interessante è lo stick correttore della linea Codornia Tour. Lo stick correttore è zero difetti. È uno stick correttore disponibile in due tonalità, perfetto quindi per adeguarsi ad ogni tipo di incarnato, con una buona coprenza e soprattutto con una buona durata. E poi ricordiamoci che è all'olio di rosa moschita, che è emolliente, quindi perfetta per i contornocchi, soprattutto per coprire le occhiaie, le leggere borse, e perché no alle piccole imperfezioni. Molto, molto interessante. Guardate anche solo il prezzo, 7,95€, e direi che è l'occasione da prendere al volo. E ora andiamo alla festa della donna. Ricordatevi che c'è la festa della donna, eh? Ma uomini, ricordatevelo. Per la festa della donna abbiamo i set della linea Illuminel, i set di smalti. Quindi abbiamo le tonalità Fashion, che sono composte da 2, 4, 5 smalti Fashion, eccolo qui, in questa piccola scatolina, al prezzo di 7,95€. Se noi abbiamo i colori e tonalità Bon Ton, eccoli qui, quelli più chiari, quelli più classici, al solito prezzo, e sempre salita scatolina. Molto carino come piccolo regalo. Altrimenti abbiamo i set, eccoli qui, questi, i cestini feste della donna. Vi faccio vedere magari questo, che si vede meglio. Ogni cestino, quasi sono della linea comunque, Mattina au Jardin, ed è disponibile per tutte le profumazioni, ve la farò vedere. Comunque, il set classico, comprende, le toilette, quella da 100 ml, il gel doccia, eccolo qua, quella da 200 ml, e il cestino, quindi le toilette, il doccia e il cestino, ok? A 19,95€. Nell'altro caso, c'è anche il set Balutin, quello a festa della donna, in questo caso la rosa fresca, che è un set più piccolo. Al prezzo di 9,95€, abbiamo il latte corpo da 200 ml, il gel doccia da 200 ml, e la piccola Balutin in organza, molto molto carina, anche come regalo, a 9,95€. Ovviamente, abbiamo riferibile in tutte le profumazioni, dalla linea Mattino Giardin, quindi, le grume in fiore, la rosa fresca, sia la linea, tutto il set classico, che quello è Balutin, ovviamente, il cestino, quello della linea Malva, sia il cestino che il Balutin, e il muget in fiore, e anche, ovviamente, la nuova fragranza, quella al ciliegio in fiore, sempre a stesso prezzo, stessi prodotti, sempre il cestino grande, oppure il set Balutin. E questo era l'album numero 2, valido fino a martedì 25 febbraio 2014. Eccoci, abbiamo concluso il nostro tour, abbiamo visto tutto l'album, vi ricordo che l'album numero 2, valido fino al 25 febbraio 2014, qui sotto il link per scaricarlo in formato pdf, così potete verlo sul vostro computer, e il link per contattarmi, per le ordini, per le informazioni, tutto quello che volete. Sapete che sono sempre a disposizione, e non mi resta altro che augurarvi, buoni acquisti naturalmente profumati, con il Magico Natural al Mondo, di VraCher. Grazie.